Salve a tutti, sono Ferrari Marco, faccio una piccola presentazione per chi non mi conosce, sono sicuro che questo video verrà visto anche da persone che non mi conoscono. Mi chiamo Ferrari Marco, abito in Giappone, gestisco un'agenzia di viaggi e quindi questo argomento mi tocca veramente in prima persona. Come ben sapete in questi due anni il Giappone è rimasto chiuso al turismo e solo ultimamente è iniziato ad aprirsi al mercato internazionale. Proprio oggi in data 2 settembre abbiamo ricevuto la ufficialità delle regole dettate dal governo giapponese per entrare in Giappone come turista. Quindi la prima domanda che voglio rispondervi è questa. Quando posso viaggiare in Giappone nel 2022? Bene, dal 7 settembre 2022 il Giappone aprirà completamente i suoi cofini a tutti i tipi di turisti, sia individuale che di gruppo, però non è obbligatorio ad essere accompagnati tutto il tempo da una guida. Questo è un grandissimo cambiamento, soprattutto di prezzo innanzitutto. Ma detto questo, quali sono i requisiti per entrare in Giappone? Innanzitutto il vostro viaggio deve essere prenotato interamente dall'agenzia di viaggi o tour operator approvati dal governo giapponese. Per esempio la mia agenzia. Sarà necessario ottenere un visto e questo può essere richiesto una volta che sono già fatte tutte le prenotazioni, inclusa anche il biglietto aereo. Ovviamente noi siamo tenuti fornire tutte le documentazioni per i nostri clienti. Il secondo tema è ci vuole un test PCR per entrare in Giappone o devo essere vaccinato? Allora non necessariamente dovete essere vaccinati. Se non siete vaccinati dovete fare un test PCR 72 ore prima di venire in Giappone. Se avete invece la terza dose di vaccino non dovete fare questo test. Una volta arrivati in Giappone indifferentemente se siete vaccinati o no, non ci saranno test. Ma le frontiere non erano già aperte? Sì, le frontiere erano già aperte dal 10 giugno. Solo che la regola era che si doveva prenotare un viaggio, un pacchetto tramite agenzia o tour operator locale con inclusa però la guida. Cosa che dal 7 settembre cambierà perché non ci vorrà una guida obbligatoria. Questo punto è molto importante, ascoltate bene. Posso semplicemente acquistare un biglietto aereo o prenotare in hotel per andare in Giappone? Allora per il momento no. La regola è che dovete prenotare sia il biglietto aereo anche gli hotel, quindi tutto il contesto del viaggio in Giappone tramite un tour operator o un'agenzia autorizzata per poi ottenere il visto. Questo punto ragazzi è molto importante perché veramente ho ricevuto tantissime richieste perché molte gente sono dei viaggiatori quindi vogliono avere la libertà di scegliere gli hotel, il biglietto aereo, tutte queste cose. Per il momento purtroppo non è possibile. Poi ovviamente questa regola può cambiare, quindi nel 2023 questa regola del bisogno di comprare il biglietto tramite agenzia magari non sarà necessaria. Però per il momento volete venire in Giappone da settembre in poi è in vigore questa regola. Ovviamente vi terrò aggiornati. Lo so ragazzi, anche per me è una cosa abbastanza assurda. Non sono qui a giudicare. Io in questi mesi e soprattutto negli ultimi giorni sono stato assalito dalle richieste e ho sempre trovato un po' di difficoltà a rispondere perché comunque è proprio il governo stesso che non ci ha dato le regole in anticipo e questo è stato veramente un grosso problema anche per me. E vi dico, non vedo l'ora veramente che si possa venire in Giappone senza tutte queste regole. Anche se io sono un agente turistico, dovrei essere quasi contento perché comunque la gente è obbligata a utilizzare un servizio come il mio, però di fatto è che è tutto molto complicato. E poi lasciatemelo dire, anche abbastanza assurdo, ma è così. Quindi se avete la domanda, io ho già un volo, ho prenotato l'hotel per i cavoli miei e mi serve solo il visto, la risposta è purtroppo non possiamo farlo. Mi piacerebbe avere questa possibilità, ma non si può. Non possiamo farlo, andremo contro la legge giapponese e io questa cosa non posso permetterla di fare. Per quanto riguarda la questione della mascherina, se dovete sempre portarla, non c'è l'obbligo della mascherina. Ovviamente ci sono situazioni dove siete tenuti a tenere la mascherina, come nei trasporti pubblici, nei negozi, nei ristoranti, ecco, nei luoghi chiusi. Costituzionalmente il governo non può imporre questa regola. Però vi dico, appena venite in Giappone capite che la maggior parte dei giapponesi tiene la mascherina e quindi vi verrà anche voi, tra virgolette, voglia di metterla perché vi si interesse diversi. Un'altra domanda che potrebbe essere interessante per voi è, ma posso andare ovunque in Giappone? La risposta è sì, tutte le destinazioni, voi potete andare a tutte le destinazioni. Basta che lo dite all'agente turistico o al tour operator, io voglio andare qui, 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 qui e noi, per esempio, no? Se mi chiedete un itinerario personalizzato, vi farò tutto l'itinerario personalizzato come lo volete voi e vi procurerò il visto e tutte queste cose. Come sarà viaggiare in Giappone con queste regole? Ma semplicemente, bello come sempre, ecco, una volta che siete qui in Giappone il viaggio in sé non cambia, anzi, è uguale a prima. Ma penso anche che ci saranno anche meno persone, quindi probabilmente è anche un buon momento per venire, anche se con queste regole pre-partenza magari possono far cambiare l'umore vostro. E vi capisco perché veramente anch'io mi sentirei a disagio per vedere tutte queste regole iniziali. Ma se si pensa in modo semplice e seguendo le regole in quel momento, tutto magari può sembrare un po' più semplice. Se non avete mai utilizzato l'agenzia di viaggi, adesso vi spiego questa cosa. Non è che necessariamente uno deve prenotare gruppi piccoli, medi, potete anche prenotare dei tour personalizzati. Noi siamo proprio specializzati in questa cosa, in tour personalizzati per una persona, due persone, una famiglia, una coppia che può viaggiare. Quindi fondamentalmente la differenza è che non avete la libertà magari di andare su booking a goda e cercare l'hotel che volete. E poi ovviamente le agenzie e il loro lavoro hanno la loro commissione. Io spero di essere stato chiaro, ho voluto fare questo video perché ci tenevo a informare tutti quelli che mi seguono e anche quelli che sono interessati a viaggiare in Giappone. Penso che fino ad ora veramente c'è stata tanta confusione e ci vuole la massima chiarezza. Ovviamente le cose possono cambiare da un momento all'altro ancora. Quindi se avete in programma di venire, non so, a giugno del prossimo anno, a maggio del prossimo anno, ad aprile del prossimo anno, le cose possono cambiare. Non necessariamente magari si dovrà prenotare tutto tramite tour operator, agenzie di viaggi. Quindi con tutta la serenità provate a organizzare un viaggio in Giappone. Le regole sono queste, in questo momento non si possono cambiare. Sicuramente cambieranno, ci teniamo aggiornati. Ovviamente se volete contattarmi nel mio sito per chiedere un tour qui in Giappone potete sempre contattarmi su marcoferrarigiappone.com e ci teniamo aggiornati. Grazie mille per l'ascolto e allora non vedo l'ora di vedervi in Giappone. Ciao a tutti!